Di Eugenio Montale, elogio del nostro tempo. Non si può esagerare abbastanza l'importanza del mondo, del nostro, intendo, probabilmente il solo in cui si possa uccidere con arte e anche creare opere d'arte destinate a vivere lo spazio di un mattino, sia pur fatto di millenni e anche più. No, non si può magnificarlo a sufficienza. Solo ci si deve affrettare, perché potrebbe non essere lontana l'ora in cui troppo si sarà gonfiata, secondo un noto apologo, la rana.